Quanti di voi hanno avuto l'impressione che la batteria del pc duri di meno rispetto al solito? Ci sono diversi programmi di terze parti che ci consentono di conoscere lo stato della batteria installata, ma perché quest'ultimi dobbiamo usarli quando poi ci sono gli strumenti integrati nel sistema operativo? Infatti oggi andiamo a scoprire quanti cicli gli restano a se dannate batterie attraverso CMD di Windows e la finestra informazioni di sistema di macOS. Passaggi velocissimi, su Windows ci basta aprire il prompt dei comandi e digitare powercfg staccato battery report, tasto invio e ci viene notificato il percorso dove poter pescare il file, perché se non l'aveste intuito abbiamo chiesto al CMD di generare un report, questo è in formato HTML e quindi verrà aperta una finestra nel browser predefinito. Altro esempio utilizzando PowerShell, cosa praticamente identica a quella prima. il comando da dare è powercfg slash battery report slash output c due punti slash battery backslash report punto html. Su Mac è più immediato, basta fare click col pulsante destro del mouse sull'icona della mela in alta a sinistra, click su informazioni di sistema e nella finestra che compare scegliete la voce energia nella colonna di sinistra e cercate la riga conteggio cicli. Sì, magari utilizzare programmi specifici è meglio, restituiscono più informazioni, però se cercate qualcosa di immediato, questa è la soluzione giusta. Ma se genero questo report mentre si spegne il pc, perché la batteria è crepata? Con questa terribile delusione è il momento di concludere. Non si vede più, grazie per averci seguito, alla prossima, ciao, arrivederci!